Una vittoria in trasferta con tanto morale in una corsa a salvezza che sta prendendo una piega ma ha qualcuno più su. Manca ancora qualche punto amici di Sportisili, ciao da Salve Geraci, siamo live dal Polisportivo e fulgatore Don Carlo Visilmeri 25esima giornata del Girone A di Eccellenza Siciliana. Onua, pallone per Todaro, a limite calza con il mancino, per l'arbitro si può andare, allora Romano a basso, Todaro all'ottana, andava a prendere la Vardera, ripallo su Del Monego, si alza il pallone, colpo di testa di Pavisic. Alessandro Maltese sfida alla fine Pavisic nel tenere un po' per troppo tempo questo pallone, allora riparte la Visilmeri, Matera verticalizzazione per il tiro di Federico su Grimaudo, posizione di fuori gioco. Matera di testa, Grimaudo, il calcio d'angolo. Riccioli stavolta in mezzo, prolungamento di Pavisic. Daguano, spazio anche per tirare, calza con il mancino, storco. Pallone sul secondo pallone, il tiro di Miliziano. Di testa Del Monego prova il tacco Natella, Romano colpo di Pavisic che va a subire verticalizzazione di Lavardera per Matera. Il pallone è lento, finisce in porta il gol della Don Carlo Visilmeri con Matera, entrato dalla panchina, fa 1-0. Serviva una girata meno lieve, Natella, il tiro centrale. La battuta direttamente in mezzo secondo, Palo Todaro. Allora passaggio su Matera, che manda a correre Lavardera. Il ricambio è il favore. Dopo il gol segnato, il tiro di Pavisic. Radoppiato il Mazzara 46 a Castelvetrano, il gol di Mario Urbini. Spano! Lavardera, croce a rientrare, secondo pallone, non la prende né Matera né Pavisic. Colpo di testa di Pavisic, liscio di Natella, il tiro al volo di Matera sulla traversa! Matera, gira dall'altro lato, c'è abbastanza libero Miliziano che può salire e accentrarsi, infatti anche calcia. Il passaggio per Adaguano, che torna da Lala. Il croce a rientrare, non la colpisce nessuno, Alberto Cirroni! Recupera Spano, non però fa superare Ricciulli, che la passa alla Vardera, calcia con deviazioni. Gennà, scambio con Lala, ancora Gennà, cross in mezzo, verso Todaro, allontana Bertoglio di testa, Onua, strozza troppo! Romano lascia tutto a Ricciulli, pallone in mezzo che sfila, la deviazione in porta! E autogol di Alessandro Maltese. Pallone al centro, colpo di testa di Onua sulla traversa! Fulgatore vicinissimo al gol, poi Natella la prende Federico a lanciare Matera, uno contro uno con Alessandro Maltese che lo supera con facilità. Matera, tre contro due, pallone per Federico, vince il rimpallo, Mancino in rete, il gol del Misilmeri con Salvo Federico e tre a zero, è partita chiusa! Pallone sul secondo palo, colpo di testa di Gennà, salvataggio! Lì in area, colpo di testa di Razak, pallone in mezzo, Onua di testa! Spanò, sbaglia! Ed è ufficiale, il 3 a zero della Don Carlo Misilmeri a Fulgatore. Decidono il gol di Matera, l'autogol di Alessandro Maltese, il 3 a zero di Federico.